Sono stati identificati e denunciati otto soggetti del folto gruppo di giovani che tra il tardo pomeriggio e la serata dello scorso 8 maggio hanno dato il via ad una grande rissa a Fermignano all'esterno di un esercizio commerciale. Le collutazioni tra i presenti si sono verificate in più momenti, ma l'episodio centrale è stato ripreso e caricato sui social, più precisamente su un gruppo Facebook, diventando virale e raccogliendo in poco tempo numerose visualizzazioni che hanno permesso ai carabinieri della stazione di Fermignano di venire a conoscenza dell'accaduto. Sono stati almeno tre i giovani che hanno poi ricevuto le cure mediche per le lesioni riportate. Due di questi si sono recati al pronto soccorso di Urbino, mentre un altro è stato raggiunto da un'ambulanza arrivata sul posto dello scontro. Allo stesso tempo non si esclude che altri ragazzi abbiano rifiutato le cure per non essere successivamente refertati. I ragazzi coinvolti nella rissa sono per lo più maggiorenni, di età compresa tra i 18 e i 22 anni. Gli otto giovani identificati e denunciati a piede libero, tutti provenienti dall'entroterra della zona urbinate, ovvero dai comuni di Fermignano, Urbani e Acqualagna, nel momento dello scontro erano divisi in due fazioni contrapposte. Le indagini dei carabinieri sono ancora in fase di aggiornamento per ricostruire le dinamiche esatte dell'accaduto, anche se pare che gli episodi violenti siano partiti da un semplice screzio tra coetanei e sarebbero stati alimentati anche a causa dell'abuso di sostanze alcoliche. Tra le diverse testimonianze raccolte dalle forze dell'ordine, c'è chi ha dichiarato di essersi trovato sul posto mentre rincasava o era di passaggio, mentre altri soggetti hanno affermato di aver reagito per difesa dopo essere stati colpiti. Il locale all'esterno del quale si è verificata la rissa è stato multato per non aver seguito le norme in materia di sicurezza sul lavoro e sul fronte Covid anche per non aver rispettato il protocollo e le misure di sicurezza anticontagio. Per gli stessi motivi, oltre alla sanzione economica, l'esercizio commerciale è stato chiuso per una giornata.